Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di gta online oggi con la pegassi vacca Con questa vaccona andiamo alla nostra base operativa perché voglio vedere le nuove missioni che ci hanno portato I nostri amichetti delle operazioni speciali abbiamo fatto in live Molte abbiamo fatto tutta la preparazione tutte le missioni in live ora voglio vedere se c'è qualcosa aspetta C'è una zona c'è una zona rossa zona rossa a casa mia vuol dire solo una cosa Tante possibilità di fare headshot Li devo ammazzare e dovete sapere una cosa io ho queste cose ogni volta che li vedo mi devo fermare che vuol dire che c'è qualcuno qui Che può essere ammazzato in genere non è una cosa bella direte voi è pratica vuol dire che puoi fare headshot Però non vedo nessuno sono messi bugato tutto finto è tutto fin tutto estremamente finto secondo me oppure no è sotto il ponte E noi che qua siamo sopraelevati forse sotto andiamo sotto posso buttarmi c'è un qualche tipo di spiraglio di luce Dov'è il spiraglio di luce c'è qualche buco nel ponte dove posso buttarmi o devo andare indietro andiamo indietro poi non è vero Si siamo sopraelevati ma qui c'è l'autostrada quindi non è che posso andare molto come non detto vai andiamo avanti Andiamo alla base operativa volevo fare sta roba ma non c'è modo a proposito prima di fare qualsiasi cosa voglio chiamare il mio Non voglio chiamare il meccanico voglio chiamare l'assicurazione Dove avere tipo due o tre macchine state distrutte nei ultimi episodi e non le ho ancora recuperate Tu mamma mia teserak teparaya va perfetto ma mi ha detto che c'è qualcosa anche nella base operativa Da recuperare e non è che sia proprio bella come cosa cosa è che mi manca base operativa Ha il cangiali Il cangiali è bello in realtà eccoci entriamo vediamo o mio dio quanta gente c'è stavolta Oh mamma mia no non si può saltare raga che palla C'è qualcosa sta succedendo ecco la macchina che va sott'acqua la stromberg Buono ok in realtà mi sa che il caso bogdan spesi preparazione 95.000 mortacci vostra ragazzi mortacci vostra ve lo posso dire Comunque io ho paura beh lo faccio perché lo faccio tanto non devo farlo partire ora posso farlo con calma Però c'è una missione in cui devi recuperare un avenger e se non sbaglio la venger è quello lì che A cui ho provato a partecipare come missione e non siamo riusciti a prenderla alla fine ok allora a quanto pare Questa preparazione me la fa fare anche da solo e devo rubare quattro stromberg No quattro camion che trasportano le stromberg Per fortuna c'ho la mia pistoletta c'ho la mia vacca che si chiama così la macchina e non è che sono Andiamo a prendere ste robe il camion c'è sta partendo ora e devo trovarlo e basta Quindi devo prendere solo la macchina o tutto il coso posso orca vacca mi sparano io volevo volevo abbattere una di quelle ruote Ma non puede allora aspetta per un ammazzare il tipo di ok che mi spara a buffetto orca vacca chi è questo mo dai dai che lo prendi e Schere ok ma vedere che cosa fai se non puoi più guidare ammazziamo il tipo dentro beh dov'è Ammazzarlo da qua da sotto perfetto ma io la stromberg ce l'ho Oddio devo portare la base operativa e devo portarne quattro porca vacca ci metterò mezz'ora Prosti così vanno veloci bello che mi spara mamma mattacci vostra andate via e la prima l'abbiamo portata Per non è che se sono davvero quattro orca vacca la sto bisogno di prendere un'altra Vettura perché con la vacca non è proprio il massimo prendiamo la del aqso così volo almeno certo che qui tra macchine che volano e tra Macchine vanno sott'acqua ne abbiamo di cose da fare la stromberg e la proverò Sicuramente perché mi avete detto in tantissimi di comprarla ma io non mi ricordavo non sapevo come si chiamasse quindi ora tranquilli che appena Abbiamo modo io faccio tutto allora devo parare al tipo lì o un'altra mitraglietta tipo la granata bomba adesiva Finata a gas molto più no per forza la pistoletta devo usare è meglio posso volare e tu no invece Quasi quasi mi toccherebbe comprare una mitraglietta sempre molto più comoda quando faccio ste cose e schiere roadway Mamma mia come ti massacro via qua bello vieni qua mi diamo la gamba Vai vai mazzalo Oddio si sta impedando muori Oddio la qua riesco a beccare solo la gamba ok andiamo più avanti cioè che ti devo dire La ruota ma perché la ruota mi la spaccano sempre quando non ho capito vabbè devo volare perché altrimenti qua non riesco a fare nulla ma sta macchina che gli è successo Non è morto ecco mi sono schiantato devo ammazzare solo quello che guida muori muori oddio Che schifo le pistole o io non ci credo posso dire alleluia Oltre a fatte come sono buttato non so perché dalla macchina 16 anni per ammazzare sto tipo questa missione è lunga e noiosa e volevo farla partire in quattro Ma mi sono completamente scordato che devo prima invitare la gente nel motosecual club e poi potevo fare la missione E quindi me la son presa un po' in quel paese va bene no ma scusa ma la riportata rotta pensavo me la giustasse Vai provare a fare una cosa non mi avvicino al camion ma prendo fucile a cecchino e prova a spaccarlo da lontano Preciso da qui lo vedo Sono abbastanza vicino secondo me Prima a terrare oddio oddio attivati Ho sbagliato lo vedo lì se mi metto qua sopra io fucile a cecchino che c'è spacca tutto Non posso passare mi sono bloccato dove cacchio sono finito non posso uscire da qui ma si vuole sapere che cosa sta succedendo Oddio cos'è un salmone che si è incastrato Ragazzi ci pensiamo dopo penso prima ad ammazzare autista Di quel coso lì No è partito No Per fare il furbo invece l'ho pigliato un gula sta macchina è bella che andata Ma se si può sapere dove cazzo sono io boh Ragazzi a questo punto direi oppressor e come va va La camionetta è qui l'ho vista Io direi che finchè va così lenta posso fare una cosa di questo tipo Andiamo sopra un tetto E spariamo vedo la camionetta ma è ferma però che se mi avvicino un po' Potete stare sospetto Eccola Ah ma non è la Stromberg quella Porca vacca Allora sono le altre due Vestiamo un po' di gente sulla spiaggia che fa ridere Sghere Ok 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 Vedo la motoretta si sta muovendo Non si sta muovendo In che direzione è? Viene verso di me? Perché se viene verso di me ragazzi forse è il momento buono di usare il cecchino Potrebbe essere il momento... no è dall'altra parte Potrei farlo esplodere però perderei così la Stromberg e non andrebbe bene Allora facciamo così mi giro di qua e me ne vado sopra la montagna Tanto non mi hanno visto Ma cosa? Mi sta... sta tornando indietro Arca vacca allora è una direzione giusta Il problema ragazze con l'oppressor posso usare solo la mitraglietta incorporata che fa cagare Posso neanche sparare a destra a sinistra Quindi devo andare avanti Avanti a dove sono loro Fermarmi E ucciderli Ecco qui perfetto Uno e una due E' così che si fa Check in away Check in away No no ma questo è scemo Non prendere quella Prendi quella che ti serve per la missione no? Voglio prendere la macchina accanto Io non ho parole Andiamo Sono cinque chilometri Sta missione io perché l'ho avviata Cioè hai capito che cosa sto facendo? E' da 40 minuti 40 minuti che sto facendo questo Io non ho parole Cioè le parole ce le ho Ma forse è meglio non dirle Non ci credo dai Questa è la terza Poi ne manca solamente una Queste missioni non devo mai più neanche guardarle col binocolo Finchè non sono in un gruppo da quattro Porca vacca vi giuro Mi sta salendo il sangue A te le ginocchia Non so come si dice Dai 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 che me ne manca solo uno Mamma mia Allora l'ultima è davvero dall'altra parte della mappa Io non so perché ma Era palese che fosse così Era proprio palese Ma io non de mordo eh Pensavi che io Avessi potuto non lo so Interrompere quella missione Magari non finisce registrare l'episodio No no Al costo di giocare un'ora Solamente andare in giro per la mappa Per far venire fuori un episodio di 10 minuti In cui rubo delle cose Io lo faccio E che non me ne frega niente Non me ne frega Parti col razzo vai Ah che bello Non ci credo No non ci voglio credere No raga no non ci voglio credere Tempo rimasto 2 minuti e 40 Ora me lo dici? Ora porca vacca me lo dici? Ma parole Tutto questo per niente Tutto per niente Tutto Tutto Per niente Non scherzo Non scherzo Magari se riesco a rubare la macchina in tempo Non mi fallisce la missione Forse Non si spero Oddio no No io sto andando lo stesso perché Non è vero sono in negazione totale Sono in negazione totale perché non è possibile questa cosa E giustamente ora invece il timer si resetterà Tantissimo anche Ok Ok Dovevi essere arrivato E' qui Ora devo solo planare Calma Moltissima calma E ce l'andiamo a prendere No 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 perché ti devi schiantare sempre all'ultimo 20 secondi Tanto fallisce Tanto lo so cioè Fa tutto per niente Io non ci voglio credere Tutto per niente 8 No ti giuro se fallisce qui C'è No 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 dai era l'ultima No dai No 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 Chi è questo battere 007 cosa vuoi sparare Dillo vuole spararmi se un pezzo di merda ne posso dire che se un pezzo di merda Posso te lo dico che volete se vuoi spararmi se un pezzo di merda Posso posso dirvi e non appena spiegato un'ora un'ora una fottuta ora Vai fa va investitemi tanto non devo fare nulla di che Perché non muore questo fanno morire Immortale è un hacker perfetto scusa ti sto sparando da 16 anni Con una mitraglietta calibro pesante e non ti succede niente va bene ragazzi Ma per questo video è tutto perché c'è tipo che mi stai seguendo con i missili quindi non ho proprio voglia Tengo bobo voglio come tu dico Eccolo qua sta pure volando il tipo vuole spaccare ragazzi per questo video Del tutto inutile tutto Completamente inutile io non ho parole di quanto inutile sia questo video e niente io vi saluto Vieni bello dai Sei immortale Sei immortale